Francesco, tu sei arrivato quest'anno all'Olmo Ponte, come vivi questa avventura? No, è una bella avventura, una nuova esperienza che mi serve per crescere ed ho scoperto anche che è un campionato molto tosto dove bisogna rimanere concentrati e se no si rischia come è stato in queste ultime partite però cercheremo di riprenderci il prima possibile, cercheremo di riprenderci e di far muovere la classifica anche perché sabato ci arriva questa squadra fiorentina, l'Audax-Legnai, un brutto cliente bisogna stare attenti e rimanere concentrati perché bisogna riprendere i punti che abbiamo lasciato e cercare di rialzarci tutti insieme Tanto ho visto nella fase del riscaldamento il gruppo è bello carico Sì, siamo carichi perché sappiamo che è una partita non facile e bisogna comunque anche in allenamento dare il massimo perché l'allenamento poi ci dimostra quello che abbiamo fatto nelle scorse domeniche Grazie